Ciao a tutti ragazzi e bentornati al nuovo video, io sono Ale e oggi siamo qua ragazzi che compreremo l'atomizer, l'arma aliena comprata Raga, andiamo fuori e proviamola Atomizer, mamma mia Signora, oh mio dio Chi è che si avvicina? Oh mio dio, ragazzi per questa volta io vi do il video bene